Bene, Naruto. Io ora vado a cercare di raccogliere qualche informazione. Mi spiace, ragazzo, ma non ho tempo da perdere. L'insegnante e il suo allievo non dovrebbero trascorrere un tantino di tempo insieme di... Che rabbia! Hai visto, ragazzo? Ci vediamo più tardi. Non ce l'ho fatta. Coraggio. Devo provare a concentrarmi ancora di più. Concentrati. Concentrati, concentrati. Devi concentrarti su un punto. Hai visto, ragazzo? Non riesco a concentrare. La faccio da stupido che ho fatto il maestro. Qualcuno parla di me. Qualche bella ragazza che sta tessendo le mie lodi.